Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da Geekirina in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi quest'oggi andremo a guardare insieme anche se fino ad ora effettivamente io di questo nuovo live action ragazzi ho visto veramente poco e niente Il nuovo trailer ufficiale che tra l'altro penso sia anche l'ultimo trailer che fanno uscire appunto di Mulan live action Che dire sapete benissimo ragazzi quanto io sia comunque fan della Disney affezionata ai classici cartoni animati Disney Quindi quanto magari queste cose dovrebbero gasarmi però vi dico proprio sinceramente ragazzi che questa attuale moda di fare continui live action Di quelli che sono nati come cartoni animati effettivamente mi dà un pochettino fastidio Perché penso di aver già espresso comunque questo parere probabilmente quando ho recensito il live action del Re Leone Penso ragazzi che siano semplici trovate commerciali attraverso le quali sperano di fare soldi ovviamente Quindi dietro questi live action ragazzi non vedo altro che un meschino desiderio di guadagno Punto non ci vedo nient'altro non ci vedo passione non ci vedo assolutamente niente Per me sono live action completamente fini a loro stessi che potrebbero anche semplicemente non esistere Per cui non so ragazzi non so manco più come esprimermi riguardo queste cose Io ho guardato il live action della Belle e la Bestia ho guardato il live action di Aladin ho guardato il live action del Re Leone E vi dirò che per esempio i primi due che vi ho nominato ragazzi posso dire che magari li ho trovati abbastanza godibili da guardare Ma non hanno suscitato in me ragazzi alcuna emozione probabilmente l'unico la Belle e la Bestia un pochino sì Perché la Belle e la Bestia è probabilmente uno dei miei cartoni animati Disney preferiti in assoluto Quindi magari questo ha giocato un pochettino più sulle mie emozioni Però per il resto ragazzi vi ripeto non sono assolutamente entusiasta di queste creazioni E anche perché sono copie fondamentalmente anche se non totalmente perché ovviamente non è che sono proprio identici e spiccicati ai cartoni animati Tranne il Re Leone che fondamentalmente era praticamente uguale solo che in CGI Quindi se siete curiosi ragazzi di sapere il mio parere sul Re Leone vi consiglio di andarvi a guardare la mia recensione Che purtroppo non è stata molto capita molto apprezzata perché ovviamente ragazzi quando si critica qualcosa Insomma te devi aspettare che ci stanno i simpaticoni che invece ti vengono a dire che sei un completo idiota perché non ti è piaciuta quella cosa là Comunque insomma poco importa Quindi appunto adesso il 26 di marzo esce questo nuovo live action Che tra l'altro credo si discosterà anche parecchio probabilmente da quello che è il cartone animato che tutti noi conosciamo Perché mi sembra di aver letto che la storia di Mulan ragazzi si basa su una famosa leggenda cinese se non sbaglio E quindi in questo live action hanno voluto attenersi più alla reale leggenda cinese e al cartone animato in sé Infatti se non erro io ragazzi vi ripeto come avevo detto non ho guardato quasi nulla in questo live action ma intendevo dire trailer Ho letto qualche notizia qua e là e mi sembra di aver letto che appunto non ci sarà ad esempio Mushu come personaggio Anche perché ragazzi effettivamente in un live action che vuole parlare di cose possibilmente reali non possono inserire un personaggio come Mushu Per cui la gente che se ne lamenta io la capisco perché comunque è un'icona ragazzi è un'icona il personaggio di Mushu Ma penso sia abbastanza coerente il fatto che non ce lo mettano se appunto vogliono fare di questo live action un qualcosa di più reale che fantastico Per cui si chiama allo stesso modo la storia fondamentalmente più o meno la stessa ma io direi l'idea della storia Per il resto appunto si sono attenuti di più a questa famosa leggenda che io non conosco quindi su cui non posso esprimere alcun parere Ci tenevo appunto a guardare qualcosa di questo live action insieme a voi Se mi state per chiedere se lo andrò a guardare al cinema non credo proprio ragazzi Perché oddio dipende magari il trailer mi ispira magari nonostante si discosti dal cartone animato che conosciamo Magari è una storia che vale davvero la pena vedere non so Appunto per questo ragazzi siamo qui per guardare questo trailer insieme per cui non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo Chiudete le porte Sei delle nostre città nord sono cadute sotto un simultaneo attacco a fianco del loro capo combatte una strega Vanno eliminati vostra amestà Ogni famiglia deve contribuire con un uomo perché combatta Tu sei un eroe di guerra hai già fatto molti grandi sacrifici Mio padre non può combattere Io prenderò il suo posto Gli invasori del nord la uccideranno Se lo denuncio i nostri uomini la uccideranno Conquistata la città imperiale Avrò la mia vendetta per mio padre Come ti chiami soldato? Guachun Figlio di Guachun Presteremo il giuramento del guerriero Leale Leale Impavido Sincero Lanciate Morirei fingendo di essere qualcosa che non sei Il fatto che io sia qui prova che c'è posto per persone come noi Una ragazza insidia i nostri piani Una guerriera Ma che cazzo Ma che cazzo ragazzi No 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 Scusate ma cioè What the fuck Cioè cosa ho appena visto Cioè ragazzi che cosa ho appena visto Allora io stavo parlando del fatto che magari questo film Voleva attenersi molto alla realtà Ma non ho visto niente di tutto questo Ho visto gente ragazzi che si muove come si muove Ezio in Assassin's Creed Che è un videogioco ok Eh Un videogioco ok è probabile Ma se tu mi vuoi fare questo film in modo che sia più reale E quindi non mi ci metti un personaggio come Mushu Ci hanno messo la strega Che si trasforma In falco Quello che cazzarola è Ci hanno messo gente ragazzi che corre sui muri Gente che corre sui muri Che Che Fa acrobazie sui cavalli Manco fossero Non lo so Manco Manco Migliori acrobati del circo Le sanno fa quelle cose Capite cioè Che ve voglio dire Poi tra l'altro il fatto che a quanto pare si scopre Abbastanza in fretta Che lei È una donna Cioè quindi Il cartone si basava Tutto sul fatto che lei nascondesse il fatto di essere una donna Ovviamente anche perché Nell'esercito cinese a quanto pare era considerato alto risonore Che una donna Facesse parte insomma Dell'esercito Quello che è Quindi Punibile con la morte Infatti dice No se la denunciamo noi Saranno loro ad ucciderla E ok Però a quanto pare si scopre subito che lei è una donna C'ha pure i capelli tutti belli fluenti Per cui Manteniamo pure i capelli fluenti Così magari fanno un effetto più figo Quando faccio le mie acrobazie incredibili Assurde Impossibili E quindi si scopre presto che lei è una donna I nemici scoprono a quanto pare presto che lei è una donna Che quindi gli sta Rompendo le palle nel paniere Non le uova manco Quindi scoprono presto Cioè scoprono Che lei è una donna Nonostante tutto Lei era lì In mezzo all'esercito Ragazzi Cioè in mezzo ai soldati A combattere A cavallo Volando Incredibile Cioè tipo Leggi delle gravità Non esistiamo più assolutamente In questo live action E nonostante tutto Mushu non ce lo mettiamo Ok allora in questo caso Ok ragazzi Cioè ci sta Però evidentemente Probabilmente ragazzi Mushu è un personaggio comunque troppo Umoristico Perché comunque questo film Sembra essere molto serio L'atmosfera del film Sembra essere molto seria Nel cartone animato Ovviamente ragazzi Ci avevano dovuto inserire Comunque Momenti Comici Comunque spunti comici Eccetera Mushu era protagonista Di diversi Di questi spunti comici E quindi ovviamente Essendo comunque il film Scena di una storia Dall'atmosfera molto seria Sembrerebbe E non ce l'hanno potuto inserire Secondo me fondamentalmente Per questo Però ragazzi Quello che ho visto Non Non mi ha entusiasmato Proprio per niente Ma proprio per niente Cioè ragazzi Proprio per niente Cioè continuo a girare Nella mia testa Il what the fuck Ho appena visto Capite Cioè raga No seriamente Adesso tolgo il volume Cioè riguardiamo Certi momenti Riguardiamo Cioè certi momenti Allora all'inizio Ci stanno questi qua Aspettate Ci stanno questi qua Ragazzi Che saltano Dai cavalli Così Cioè In base a che cosa Si danno la spinta Cioè proprio fisicamente Parlando In che modo Si sono dati la spinta Per saltare Cioè guardate raga Cioè no Cioè guardate Così Così Cioè hanno le gambe Aperte sul cavallo Volano Verso il palazzo E corrono su Per il muro Ok Poi cadono giù Ci hanno inserito Questo nuovo personaggio qua Della strega Non ho capito il motivo Forse fa parte Di sta cazzo Di famosa Leggenda cinese E poi E poi C'è lei Che prende Vabbè Il posto di suo padre Questi che continuano A volare Giù dai palazzi Come se non ci fosse un domani E dopo di che Vabbè Cioè Shan Yu Dovrebbe essere questo qua Vabbè Gli allenamenti E ok Che ci poteva stare Tutto il cazzo Che ve pare Ragazzi Però c'è Tutto fatto molto bene Per l'amore del cielo Però guardate lei Come scioglie I suoi Fluenti capelli Che fanno Swish Ok Sì Vabbè Perché i capelli Giustamente Le danno Quell'aria Da No Da figa Da donna più figa Più tosta Blabla Questa che si trasforma In un falco Come cazzo Gli pare a lei E Questa che Cioè no raga Io non no No Questa che vola Da un palazzo All'altro Proprio come se fosse Una cosa assolutamente Normale Acrobazie Dell'altro mondo In mezzo alle impalcature Dei palazzi Ragazzi Guardiamo Guardate un po' Che roba Ok 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 Lei che comba No cioè raga No 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 Guardate questa acrobazia Cioè guardate questa acrobazia Lei sul cavallo Annaggia santa Ho cliccato due volte Cioè guardate questa acrobazia Sul cavallo ragazzi No sul serio Guardate Ok Lei che comba Cioè lei Che con un calcio Butta via una lancia E ritorna in sella Al cavallo Ma di che cazzo Stiamo parlando E questi che No 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 Cioè E questi che combattono Manco fosse Matrix Inception Sui muri No 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 L'hanno voluto Hanno provato a renderlo figo Ragazzi Ma per me che è No Cioè è assolutamente Un no Cioè un no Gigantesco Capite Perché non capisco Perché Cioè io sapevo Delle trashate Sapete quelle cinesi In cui i personaggi Fanno acrobazie Fuori Dalla norma Ma perché in questo film Perché in questo film Perché renderlo così Potevano magari appunto Voler si attenere Alla leggenda cinese Ok Potevano magari Voler Rendere il tutto Più realistico Possibile Ok E poi ci hanno aggiunto Ste cose Sti elementi Perché Perché Vorrei che qualcuno Me lo spiegare Perché la leggenda cinese Che è così Cioè La leggenda cinese Che dice Questi qua Facevano acrobazie Impensabili Improbabili Cioè io voglio Che qualcuno Me lo dica Ragazzi Voglio che qualcuno Me lo spieghi Perché non riesco A capire Perché Ci hanno inserito Questi elementi Qua Non capisco Perché Ce li hanno inseriti Accidenti Poi Ovviamente Ragazzi Alziamo le mani Gusti so gusti Se A qualcuno piace Buon per lui Tanto di cappello Ci tengo sempre a ribadirlo Ragazzi Perché magari poi Qualcuno si sente offeso Si dice Oh a me è piaciuto Non sto offendendo Né il film Né Tanto meno A chi piace Questo trailer Ragazzi Però Io personalmente Io Quindi Per me Secondo me Me La mia testa Quindi soggettivamente Parlando Ragazzi Per me Questo è un no Assoluto Perché Quello che ho visto A me ragazzi Mi lascia Totalmente Senza parole Veramente senza parole Ragazzi Veramente Io ci tengo A sapere Il vostro parere Al riguardo E se qualcuno di voi Sa qualcosa Riguardo questa famosa Leggenda cinese E che mi dica Per favore Se Nella leggenda Era previsto Che succedessero Queste cose Per favore ragazzi Fatemelo sapere Perché se non ci dormo Stanotte Ve lo giuro Questa reaction Termina qui Grazie a tutti Un bacione Un bacio A tutti ragazzi Da giocherina Ciao Ciao